Clarinetto da studio Jean Paul, modello 350. Do proviamo? Arrivo subito dopo l'intro. Ho fra le mie mani questo clarinetto della marca Jean Paul. Adesso vi spiegherò anche un pochino di storia di questa marca. È un clarinetto da studio a 17 chiavi con corpo in ABS, perfetto per iniziare da zero, bellissimo per suonarci il jazz. Adesso vediamo qualche caratteristica. È un clarinetto a 17 chiavi con chiavi nichelate molto ben ergonomiche e corpo in ABS. Ha in dotazione un'imboccatura che non è per niente male ma se volete potete completare l'acquisto con una imboccatura Jean Paul che vi farò sentire fra un po'. Jean Paul nasce nel 1994 come azienda distributrice di strumenti Yamaha e strada facendo sono diventati i più grandi grossisti di strumenti musicali in Latino America. La cosa che mi ha colpito molto della filosofia di Jean Paul e parlando con i CEO della dell'azienda è stata che Tim mi diceva sai far spendere 1.200, 1.300, 1.400 dollari per uno strumento che sia un sax, un clarinetto eccetera a una famiglia può essere pesante economicamente parlando. E quindi noi come azienda siamo partiti dall'idea di dare uno strumento di ottima qualità ad un prezzo più accessibile in modo che l'acquisto dello strumento potesse essere un pochino più accessibile a tutti. Così hanno iniziato a produrre un sax, un clarinetto, una tromba e un flauto e sono cresciuti producendo degli strumenti a mio avviso di grande qualità. La cosa a cui loro puntano più di tutto è l'assistenza clienti perché giustamente una persona che acquista uno strumento poi deve essere tranquillo che nel momento in cui ci sarà qualsiasi esigenza dal punto di vista tecnico commerciale si possa avere una assistenza a 360 gradi. In Italia l'assistenza di tutti gli strumenti Jean Paul che siano clarinetti, sax o flauti viene data dal tecnico riparatore Claudio Riliano che si trova a Bergamo. Lui è il riparatore ufficiale di Jean Paul. La politica commerciale di Jean Paul è di non avere troppi punti vendita ma di vendere direttamente al cliente. Questo permette a loro di mantenere dei prezzi bassi e mantenere una grande qualità. Ma veniamo a questo bellissimo clarinetto. Questo è un clarinetto a 17 chiavi con corpo in ABS che ti faccio sentire con l'imboccatura originale che si trova all'interno della custodia. Fra l'altro la custodia è una custodia bellissima che fascia benissimo lo strumento è molto bella e molto carina anche da vedere. Questa invece è l'imboccatura optima, cl4 che viene venduta separatamente a questo clarinetto. che si trova all'interno della custodia bellissima che si trova all'interno della custodia che si trova all'interno della custodia bellissima che si trova all'interno della custodia bellissima che si trova all'interno della custodia. Attualmente il costo di questo clarinetto è di 270 dollari. ovviamente a questo costo vanno sommati i costi di spedizioni ed eventuali sdoganamenti. L'imboccatura optima cl4 ha un costo invece di 70 dollari circa. Per iniziare a studiare questo è uno strumento molto bello a mio avviso perché ha un suono molto spontaneo, una meccanica abbastanza comoda e una custodia che permette di trasportarlo senza assolutamente aver nessun rischio di danno allo strumento stesso. Lo trovo un ottimo strumento che ti dà un'autonomia di due o tre anni nei quali tu puoi studiare, affinare la tua tecnica clarinettistica e poi sicuramente optare per uno strumento di fascia superiore. L'assistenza tecnica in garanzia di questi strumenti viene fatta personalmente da Claudio Origliano senza alcun costo per il cliente, quindi un vantaggio in più se si decide di comprare questi strumenti. Se devi valutare l'acquisto del tuo primo strumento, secondo me questo è uno strumento che fa bene il suo lavoro e che ti fa stare tranquillo per un bel po'. Io ti do appuntamento alla prossima e mi raccomando se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, lasciami un like, lasciami un commento che mi fa sempre piacere e io ti do appuntamento alla prossima recensione. Ciao ciao!